Protocollate le mille firme della petizione su parcheggi, sicurezza e acqua nell'ambito dell'iniziativa di cittadinanza attiva ed insieme per Pescara con l'obiettivo di monitorare e lavorare per garantire servizi e alleviare i disagi per i cittadini, commercianti, professionisti che transitano in città. Questo è soltanto un punto di partenza col quale noi vorremmo stimolare l'amministrazione comunale ad un colloquio e a favorire quella che è una cittadinanza partecipata perché chi ci ha seguito e chi ci segue come noi è stufo di essere semplicemente cittadini ma vuole fare il cittadino e fare il cittadino significa a nostro avviso anche interessarsi attivamente di vita politica e non partitica di poter in qualche modo incidere sulle decisioni che insomma disegnano il futuro della comunità per declinare poi gli effetti positivi a livello economico, sociale, di vivibilità e di sostenibilità della nostra comunità. Sono confesercenti vicina ai commercianti che appunto vivono anche i vari disagi per via dei parcheggi che sono carenti ma anche per via della nuova viabilità. Sì, siamo vicini a tutti i commercianti ma a tutti i cittadini che vogliono venire a Pescara Centro. Noi questa problematica l'abbiamo già sollevata a febbraio scorso. L'importante è che la zona di Pescara Centro che ormai è zona piedonale da tantissimi anni, ormai da vent'anni non possiamo penalizzare i residenti, le attività commerciali e comunque i fritori che noi aspettiamo a Pescara Centro perché le nostre attività vanno avanti grazie al pubblico.